Quanto conta il rinnovamento della fede attraverso questa processione? Tanto, per me conta tantissimo perché la fede per la Madonna della Neve, io vengo da 18 anni, da quando sono nato vengo ad onorare la Madonna della Neve. L'appuntamento quindi per te è particolarmente sentito? Sì, sì, è importantissimo, ogni anno vengo e non mi perdo nemmeno un anno di festa. Ogni anno veniamo, quindi è un'emozione, guarda, ho i privi di ogni volta che vengo. Si può dire un miracolo che si rinnova di anno in anno? Sì, e poi è anche bello, è una cosa bellissima da vedere, è più bello qua che stare nel mare. Ogni cittadino chiede la propria grazia a questa Madonna della Neve che gli viene concessa e loro vengono qua ogni anno, vengono a ringraziare per le grazie ricevute. Hanno avuto anche la soddisfazione di averla a Torre perché hanno l'indicato con i comuni di Castellammare e quindi sono felici che hanno vinto questa battaglia, di averla tutta per loro. Cosa bellissima, bella, troppa bella. Ogni anno vengo a vedere. Ogni volta che fa la festa ci vengo a vedere. Quanto conta la fede in queste occasioni? Molto, molto. E sono le cose troppo belle che uno va in chiesa, prega. Che io vengo da Somma Vesuviana, perciò vengo da lontano, anche se siamo torrezzi. Veniamo da lontano, ecco perché fa piacere e sono contento di venire qua. Non tutti gli anni perché non ci siamo mai, però quest'anno che ci sono sono da vedere. Veniamo ogni anno perché ci piace avere questa funzione bellissima. Quanto conta la fede in queste occasioni? Come? Quanto conta la fede in queste occasioni? È bellissima, sì, la fede. Ci teniamo tanto per la Madonna. Da dove venite? Da Torre Annunziata. Quanto conta essere di Torre Annunziata in queste occasioni? Tanto, tanto. L'importanza della fede in un'occasione come questa? È importante, è importante la fede della Madonna della Neve. La fede ti aiuta a crescere, a maturare, ti dà una forza in più, una marcia in più alla fine nella vita. Perché è un qualcosa che senti all'interno e che credo sia una cosa molto importante. Anche perché ho 20 anni e sono 15-16 anni che ogni anno vengo a vedere questa funzione. È veramente una cosa, ogni anno ho una sensazione diversa, un'emozione diversa che ti segna, ti segna tanto. Quante emozioni si fondono in una processione come questa? Tantissime, indescrivibili. Anche perché più cresci nella fede, più ti viene voglia di crescere. Da Pompeia, qui Giurovigliani, oramai è una leggenda, sono anni che intercettiamo la Madonna dentro di noi. Ogni anno rinasce sempre la gioia, il sentimento di più dentro di noi, per questa funzione. È importante quindi rinnovare lo spirito di anno in anno per la provincia. Sì, infatti lo rinnoviamo, sentiamo sempre più quella gioia, quell'emozione, quel contatto con la Madonna. Noi siamo di Casolo, siamo un gruppo che siamo venuti perché è la prima volta che veniamo qua a vedere questo spettacolarissimo manifestazione della Madonna della Neva e spero che lei metterà sempre una mano ad ogni persona nel mondo che ci farà stare bene e spero che migliorerà sempre il mondo di queste cattivere che ci sono in giro e lei penserà per tutti noi. Signora, quali grazie chiede la Madonna della Neva? Quali grazie per tutti i figli di mamma, per tutti i giovani che hanno tanto bisogno per il lavoro. Come ti chiami? Sabino Quanti anni hai? Tredici Di dove sei? Scafati E quanto conta per te assistere a questa processione? Tanto Quanto conta il rinnovamento della fede attraverso questa processione? Tanto, tanto, veramente tanto. Io la prima volta che sono qua però merita. Di dov'è lei? Milano Quindi diciamo una rievocazione storica che parte da lontano. Certo Sì sì Lei in vacanza qui? Sono venuta per vedere la Madonna. Io ci sono venuta per vedere la Madonna. Sì sì